Tre contenuti lampo per registrare podcast, fare video, fare contenuti quando non sai cosa dire. Buongiorno e benvenuti al caffettino, io sono Mario Moroni, come ogni giorno alle 7.30 vi parlo di start-up, social, business, insomma tutto quello che ruota attorno al marketing. E oggi vorrei trattare una delle domande più importanti di noi creatori di contenuti, noi aziende, in professionisti, non quelli che lavorano in radio, in televisione, quelli che sono i classici addetti ai lavori. Ma le persone comuni, intanto sono davanti al blocco di dire, ok io non so che cosa dire oggi, non mi sono preparato oggi, non so veramente che cosa creare. Ecco, vi do tre consigli per affrontare quel momento e buttarvi nella cazzana di contenuti anche e soprattutto quando non sapete che cosa dire. Il primo consiglio che vi do è utilizzare contenuti passati, rimettendogli a nuovo. Insomma, una delle grossi freni è no, ma quella cosa l'ho già detta nel 2016. Bene, nel 2016 ci siamo nel 2020, insomma c'è passato di tempo, puoi rimodernarla, il mondo è cambiato per davvero. Anche argomenti di sei mesi fa, otto mesi fa, cinque mesi fa, qualche mese fa possono essere utili. Uno, per riprenderli e anche aggiornarli, per contestualizzarli al contesto in cui siamo, alle novità, all'attualità. E due, anche perché il nostro pubblico cambia, no? E quindi entrano nuove persone e ne escono altre, per cui ribadire un concetto aggiornandolo può solo far bene al nostro branding. Il secondo consiglio che vi do è non fermarvi alle cose che conoscete voi, ovvero uno degli altri errori che facciamo comunemente è dire no, ma quella cosa, beh la so, più o meno la sanno tutti, dai la sanno tutti. Bene, il nostro pubblico, sia che siamo un'azienda, che dei professionisti, che parliamo ad altri professionisti o ad aziende, non date nulla per scontato, perché voi lo conoscete, perché siete addetti ai lavori, voi lo conoscete perché sapete che è utile, avete già fatto questo punto, ma tutto il resto del vostro pubblico vi segue appunto, perché quelle cose non le sa. E per cui aiutarli in tematiche che a voi sembrano inutili, scontate, invece possono essere molto utili e preziose ad altri. Il terzo consiglio che vi do, soprattutto se vi occupate di notizie, di news e di cose che cambiano tutti i giorni, può darsi che a volte non arrivino le notizie, o meglio, non ci siano notizie interessanti, degne di nota. E quindi anziché dire una cosa scontata, una cosa che non è utile a nessuno, o che non mi sembra utile, il mio consiglio è quello di uscire dalle news, di parlare del passato. Ci sono tantissimi libri che avete nella vostra libreria, o manuali che avete sulla vostra scrivania, ecco, prendere quei contenuti, rileggerli, prendervi una mezz'ora per leggere alcuni passaggi, sicuramente vi faranno riaccendere quelle lampadine, lampadine che si chiamano creatività e che si accendono esclusivamente con l'energia della noia, e non con l'energia del ping, multitasking, un sacco di cose da fare. Ecco, allontanatevi e fuggite dal continuo baila di cose, perché chiaramente le lampadine vanno accese. E per concludere, se non sapete più che cosa dire, dite alla vostra community, ai vostri followers, non so che cosa dire. Oggi vi svelo i tre consigli per uscire dal blocco dello scrittore, del podcaster, del videomaker di quello che siete. Siate sinceri con la vostra community. E con questo anche oggi abbiamo concluso, ci sentiamo domani alle ore 7.30 qui al caffettino che non passa mai di moda, Mario Moroni.it è il sito su cui scrivervi gratuitamente per ascoltare l'audiolibro Startup di Merda. A domani, fate i bravi, mangiate le verdure, un abbraccione, fate i bravi, eh. Ciao.